Quello delle dighe è un vuoto che sta mettendo sotto scacco l'intero comparto agricolo del territorio. L'acqua non riesce ad arrivare dai bacini artificiali mentre la siccità fa il resto. Migliaia di aziende sono in forte difficoltà. Nel fine settimana appena trascorso il gruppo consigliere del PD è arrivato a Comunegli, un invaso che di fatto non esiste più. L'acqua non c'è, per i DEM servirebbero interventi immediati per eliminare il fango dalla valvola di fondo. È una situazione che gli operatori denunciano da anni. Secondo l'imprenditore del settore, Liborio Scudera, fa piacere che la politica inizi a prendere contezza di ciò che sta accadendo. Ritiene che abbiano fatto bene gli esponenti del PD a recarsi a Comunegli, però spiega che il problema non si può superare con lavori a costi limitati, come invece sostengono appunto i consiglieri. La valvola di fondo dell'invaso è bloccata da almeno 18 metri di fango, una vicenda che si protrae da 20 anni, non è mai stata fatta manutenzione e il risultato si vede. Secondo Scudera purtroppo Comunegli pare difficilmente recuperabile rischia di diventare del tutto non agibile proprio per ragioni strutturali. Uno degli ultimi progetti che venne definito ma non si concretizzò mai solo per la messa in sicurezza prevedeva un costo di almeno 8 milioni di euro. Per Scudera il punto focale in questo periodo deve essere quello delle acque reflue da affinare. È un progetto ritenuto molto più realistico dagli operatori rispetto a quelli per le dighe che richiedono comunque anni per la conclusione. Si sono tenuti diversi tavoli tecnici e Scudera spiega che ci sono le condizioni per dar vita proprio al ciclo delle acque reflue. Bisogna però accelerare e anzi gli agricoltori si rivolgono alla politica per intervenire sulla regione. Gli operatori da tempo attendono riscontri sul sistema delle acque reflue da far confluire nella vasca di sette farine così da dare risorse ad una vasta area rimasta priva di vere fonti idriche. Non c'è solo comunelli in uno stato di coma strutturale profondo. Anche il bacino di Disuè è riversa in condizioni precarie e ci vorrebbe un progetto da diversi milioni di euro per renderlo efficiente. Probabilmente a Palermo si deciderà un intervento urgente per Cimia la cui portata è stata drasticamente ridotta fino ad un milione e mezzo di metri cubi. Si teme infatti che la valvola di fondo possa andare incontro agli stessi problemi riscontrati per comunelli e così si cercherà di finanziare lavori d'urgenza. In generale lo stato degli invasi del territorio è pessimo e per gli agricoltori le soluzioni si assottigliano sempre di più.